Se la sicurezza stradale è da sempre argomento delicato su cui si è dibattuto su modi e interventi, la rotatoria inaugurata ieri sulle silicate all'incrocio con Fiorenzuola verte proprio in questa direzione. Un'operazione attesa da 20 anni, teatro in questo lungo tempo di numerosi incidenti, spesso anche mortali. Dopo aver posizionato anni fa l'autovelox permanente lungo la statale, la velocità dei mezzi sarà ancora più regolamentata e resa sicura grazie al rondò dedicato al regista Fellini, in quanto lungo quel tratto di strada ci fu l'ispirazione per la famosa scena di Alberto Sordi nel film I vitelloni. Taglio del nastro avvenuto ieri pomeriggio accolto dalla benedizione di Don Daniele, sfociato poi in un applauso convinto dei presenti per l'opera realizzata da Anas con il coinvolgimento del comune di Pesaro. Le silicate sono una strada di grande traffico, anche alla notte, nel periodo estivo, purtroppo è stata sede di diversi incidenti, anche mortali in alcuni casi, quindi da anni ci si batte per metterla in sicurezza e questa rotatoria è un'opera fondamentale, perché l'ingresso è a Florenzuola, l'ingresso al centro abitato di Silicate. Siamo molto contenti, sono anni che ci lavoriamo e va ringraziata Anas che finalmente ha accolto la nostra richiesta, è un intervento importante, è da 800 mila euro, il comune non solo ha spinto ma ha fatto gli espropri, ha permesso che, ha fatto la variante urbanistica, ha permesso che questa opera si potesse realizzare ed è una delle tante opere che stiamo facendo a nord di Pesaro, perché abbiamo fatto le rotatorie di Colombarone, adesso stiamo realizzando la pista ciclabile, quindi è una zona nella quale stiamo investendo molto in viabilità e in particolar modo in sicurezza. Un intervento mirato alla sicurezza, ma secondo il consigliere regionale Biancani lasciato in completo. Nel progetto iniziale sarebbero stati previsti anche due attraversamenti pedonali nei pressi della nuova rotatoria, ma al momento non sono presenti. Mancato intervento che limita di fatto gli spostamenti degli abitanti da una parte all'altra della strada. Alla base di questo intervento, oltre al poter ridurre quella che è la velocità delle auto, c'era la possibilità di realizzare anche degli attraversamenti pedonali, ricordo in due tempi, vuol dire che questo attraversamento pedonale era previsto in corrispondenza della rotatoria ed era considerato un attraversamento di sicurezza. Oggi questa infrastruttura è terminata e questo attraversamento non c'è. Io ritengo che invece debba essere fatto, perché oggi chi abita in un lato del paese non riesce, non può, perché non c'è la possibilità, non ci sono gli stessi pedonali di andare dall'altra parte, i servizi sono solo in una parte di questo bordo, di questo paese, e quindi chi abita dall'altra parte non potrebbe mai raggiungere a piedi quello che è un bar, un tabacchio e quant'altro. Ma soprattutto siamo riusciti a realizzare due fermate, due slarghi per le due fermate dell'autobus, anche in questo caso un residente una volta che scende dall'autobus, se deve attraversare la strada non c'è la possibilità di attraversarla. Quindi un intervento sicuramente importante, ma invito ANAS a sistemare quanto prima, a prevedere anche questo attraversamento pedonale, perché era anche questo uno dei motivi per cui quest'opera era stata prevista per aumentare e migliorare la sicurezza di quest'area.